Su cui è sceso un velo pietoso, forse apriremo un'altra vicenda. Per il governo. No, ma il tema che vorrei porre è uno solo. Per quale ragione questi militari... Il ministro della russa ha usato un termine forte. Ha detto che è la guerra, ragazzi. È la guerra. Il ministro della russa dimentica che l'articolo 11 della nostra Costituzione ripudia la guerra. Quindi lui sta dicendo che ci sono alcuni militari, i nostri, che, violando la Costituzione italiana, stanno facendo la guerra. Io posso rivendicare con orgoglio una delle poche cose positive, lo dico proprio autocriticamente, che rivendico del governo Prodi, quello di aver ritirato i nostri militari dall'Iraq, in cui avevano, al contrario, in cui c'erano stati mandati dal governo Berlusconi. C'è un problema di fondo sulle emissioni e sulla natura delle emissioni. Vedi, ci siamo arrivati. Ho ragione io? No, ministro, non ha ragione lei nelle critiche che muove ad una trasmissione che ha sempre evidenziato le cose che non vanno. Giordano fa il suo mestiere. Questa trasmissione no. Giordano è da sempre antimilitarista e fa il suo mestiere. Abbiamo capito che questa trasmissione non veniva a favore delle cose che voleva lei. Posso esprimere un'opinione? Ma certo, lei può esprimere tutte le opinioni del mondo. Ma volevo equilibrate. Le posso dire una cosa? Lo sa quanti militari hanno scritto sul blog? Non avevamo mai avuto una partecipazione così ampia sui nostri blog. Allora adesso vuol dire che è una bella trasmissione. No, forse un po' di disagio c'è. E quando si prende a fare, tanto un passo in avanti. Guardi, damico, le dico una cosa. Guardi cosa sta passando. No, ma adesso lo guardiamo insieme, anzi. Allora, aspetta. Ma la dobbiamo fare questa retorica. Ma non voglio lo spotto, non me ne frega niente. La russa, la smettiamo, la retorica. Ma come l'ha chiesto per tutta la trasmissione ed era previsto esattamente qua. Ma cosa non me lo mandi a mezzanotte come contentino. Era il simbolo, il sindomo di un taglio diverso. Sanco se ne voglio dire, i problemi che lei ha sollevato ci sono tutti. C'è il problema delle case. C'è il problema, il primo che abbiamo sollevato, qual era il primo servizio? Quello dell'impiego degli sprechi, quello dei maresciali che sono troppi, ho cercato di spiegare. C'è il problema dell'assistenza che deve essere maggiore, anche dal punto di vista psicologico, al che si trova. Non è questo il problema. Il problema è come questi problemi vengono posti. Allora c'è chi da questo vuol far discendere un giudizio negativo, aprioristico, una specie di ritorno, di un refrain culturale degli anni 70, quando i militari erano visti come il peggio del peggio. Non stiamo dicendo questo. Non stiamo dicendo questo, ma in questo servizio, sono le 12.10, non ho ancora visto un omaggio, adesso che siamo il 4 novembre, un omaggio alla dedizione dei soldati al rapporto tra la nazione e la forza armata. Il vero omaggio è che lei avesse dato quei fondi e quelle risorse alle forze armate. Sono belle parole le sue e io le apprezzo moltissimo. Ma è certo che ci sono le risorse. Per quanto mi riguarda non sono certo antimilitarista, quindi non mi fa cadere in questa... Guarda, vi posso dire una cosa. La Russia si batte perché ci siano le risorse adeguate e le avrete. Le parole retoriche, ma il taglio dei reclutamenti del 40% portano a un aumento di quei marescialli che quel servizio... No, no, non torniamo indietro, vi prego... Lei lo so bene. Lei lo so bene. Sei mesi che c'è il governo che riuscò. Siccome stiamo andando a chiudere, io voglio sentire le considerazioni di chi al governo c'è e dall'onorevole Salvini e poi concludere col ministro della Russia. Se vogliamo ridurre i costi, devono ridurre anche le forze armate. Chiedo scusa, onorevole Salvini, la riporto a questo ultimo servizio perché lei è più o meno un coetaneo delle persone che abbiamo visto. Io voglio sapere, e mi piaceva indirizzare questo dibattito proprio su questo, non è stato così, che effetto le fa? Cioè che tipo di messaggio le arriva? No, ma io rispetto dei ragazzi che fanno delle scelte perché sono volontari, così come rispetto l'esercito dei volontari in servizio civile, senza cui molte istituzioni, molti comuni non starebbero in piedi, così come rispetto l'esercito dei 150 mila volontari della Croce Rossa. Così come avrei preferito però di parlare di cose concrete, della proposta della Lega di dare 500 euro in mese in più a chi fa il servizio degli alpini, perché noi abbiamo gli alpini che ormai sono conosciuti come quelli dei raduni nazionali dove si beve la grappa e si remena la polenta, che ormai non esistono più. Ci sono troppi regionali. Scusate, ho ascoltato per un'ora e mezza, mi fate parlare per 30 secondi, ma mi fate parlare per 30 secondi. C'è una logica, c'è una logica. C'è una logica, c'è una logica, non sono d'accordo ma c'è una logica. Non sono d'accordo ma c'è una logica. Sapere che gli alpini non fanno solo servizio militare, ma in molti comuni la presenza della protezione civile. Gli alpini sono quelli che vanno quando c'è la frana, quando c'è l'alluvione, quando c'è l'incidente stradale, quando c'è l'incidente in montagna. E se gli alpini non stanno sulle Alpi, il ragionamento è molto semplice, non c'è più il presidio sul territorio. E quindi o incentivi i nostri ragazzi, i nostri ragazzi a Bergamo, a Cuneo, a Vicenza, a fare l'alpino, oppure se l'alpino lo fa per un anno da Reggio Calabria e poi torna a Reggio Calabria. Ci saranno migliaia di presidi che verranno meno sul nostro territorio. Questa è una proposta concreta, su cui la russa mi può dire. Sono d'accordo. Ma mi fa cosa che sta dicendo che sono d'accordo. Ma il problema è vero. Cioè che gli alpini, nel momento in cui, per determinate condizioni economiche, accanto a quelli meridionali che ci possono essere, ce ne sono sempre meno delle Alpi, un rimedio dovremo trovarlo. Non sarà quello, ma un rimedio dovremo trovarlo. Io conosco quello di cui sta parlando l'onorevole Pellini. E io bene anche. Sono appena andato a trovarli. Allora, l'incentivo, lei sa bene che è già di 50 euro. E io ho capito. 50 euro. Ha capito? Ma ci sono altri corti. Allora io potrei dire che voglio che i calciatori di Aspromonte siano tutti nati in Aspromonte e risiedano in Aspromonte. Posso dire che è quello che mi scrivete in quel disegno di legge. Posso dire, mi è stato... Però altrimenti io non lo so. Per parlare. Le posso dire che la Lega... Ma che logica anni, perdone. Alla Lega... Stavamo parlando di unità nazionale, mi pare, Ministro, no? Eh, allora le cedo il mio posto. Le sto dicendo che permetta alla Lega Nord per l'indipendenza della Padagno dire che mi piacerebbe che fra 30 anni il raduno nazionale degli alpini ci fossero gli alpini. E non ci fosse qualcun altro. Posso dirlo? Matteo, Matteo, se usi le parole giuste e il concetto è chiaro. Lui vorrebbe, e questo mi trova d'accordo, che negli alpini ci fossero anche quelli che abitano nelle Alpe. Va bene, ma non c'è niente di male. Io credo che... No, c'è un modo per farli andare. C'è un modo. Io mi sarebbe piaciuto poter... Mi chiedo scusa, ma sarebbe piaciuto poter parlare di queste cose, non di quelle. Non va il Valcamonica a fare protezione civile quando ha smesso di fare l'alpino perché torna a regiocalarmi. Mi perdoni, chi lo ha fatto finora nel corpo degli alpini? Mi dica chi sta coprendo queste funzioni nel corpo degli alpini. Ma quando io le dico, quando io le dico, Giulia, Cadore, Taurinense... No, ma per me. Sono incostituzionali. Calipari, no, no. Ma solo a finiamo a mezzanotte con la Lega che è incostituzionale mancava, effettivamente. Calipari. Allora dica tutto, che volete anche che le commissioni... Ok, no, non mettiamo altra carne sul fuoco, vi prego, stiamo in chiusura. C'è uno studio, non ne abbiamo neanche mai parlato, che io sto facendo e ti annuncio, per esempio, che io a Natale, anziché andare a... Oh, chiudiamo con delle buone notizie. No, no, vado a salutare simbolicamente gli alpini in una delle sedi disagiate, perché ci sono delle sedi degli alpini che sono forse più disagiate di Farah in Afghanistan. Non so se lo sapete. Cosa succede? Gli alpini oggi, quando smettono, fanno un'azione di volontariato, non solo loro, ma gli alpini, lo dico io, più di chiunque altro. Cosa dice lui? Se non sono sul territorio, è difficile che possa continuare. Lo faranno anche altri in altra zona, naturalmente. Allora, noi dovremmo cercare di incentivare al massimo forme che magari non siano di durata. Una volta c'era il servizio di leva. Io personalmente, per gli alpini, prevederei un servizio di ferma brevissima, anche di soli tre mesi, due mesi, quindi senza bisogno di incentivo, per vedere se è riservato magari solo a chi abita nelle zone dove vanno poi a essere stanziati. Può essere un'idea, la stiamo studiando, non so se è possibile. Non la vuole. E' probabilmente, però il problema esiste. Poi vediamo se si può risolvere o no. La stessa cosa la potrei fare per altri corpi, in altre regioni. Oh, questo mi piace di più, che ci sia una moda di affrontare la cosa in maniera omogenea. Per gli alpini una cosa, per chi... Non è venuto parlare di questi problemi stasera, non del poveretto che è stato male. Caro Ministro, non riduca tutto a pochi spicciolini perché sono stati toccati problemi profondi che lei conosce e sono sicura che lei potrà affrontare perché...